Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Forte Oggi andremo a completare le nuove sfide che sono appena uscite dall'assalto all'agenzia Ce n'è una in particolare che porteremo oggi che è questa qua Vi faccio vedere subito perché vi sono tutte abbastanza facili Però ce n'è una che nuota oltre i portelli all'agenzia Quindi o hanno aperto i portelli o vediamo cosa bisogna fare Detto ciò restiamo squadre e partiamo Se non sbaglio dovrebbe esserci qualche aggiornamento anche qui Vediamo un po' Ah vabbè qua tutto l'ultimo che farò vedere il video Perfetto bellissimo video molto molto bello In teoria dovrebbe esserci il doomsday già in una fase avanzata Lì la sfera che c'è nella stanza di mida Quindi andando all'agenzia dovremmo fare due missioni in una Ovvero quella di atterrare all'agenzia E quella dei portelloni Vediamo un po' Tra l'altro non giocare di questa squadra non so quanto tempo Allora vediamo se è carica Ok Ah Direttore lo sento sul boss Andiamo all'agenzia e sarà pieno di gente Perché la sfida è appena uscita Perché saranno tutti qua Allora Nuota oltre i portelloni era la sfida Quindi vediamo un po' cosa bisogna fare Se è un semplice saltellarci attorno Allora prima di tutto Atterriamo l'agenzia Ok Ed è la prima l'abbiamo fatta Allora andiamo a cercare questi portelloni Non so se intende questo modo Guarda tutti che Tutti che nuotano qua Però non capisco perché non me la prende Ah ok Me l'ha preso Quindi bisogna superarlo Con il risalto Vabbè Ma ci sono già quelli che sparano Alcuni non me li contano Ok Guardate quanta gente Ah devi proprio Forse Non capisco perché se non lo prende Magari è un attimo Un po' bugato Ok Quattro Andiamo a prendere il quinto E riusciamo Ok Perfetto Abbandoniamo Quindi raga Per completare questa missione In realtà è abbastanza semplice Se gli altri lo lasciano fare L'unica cosa dovete Proprio come un salto all'ostacolo Dovete Superare in salto Il Il portello Che tra l'altro mi sembra Che tutti cominciano già a fare un po' di Bolle Quindi L'evento si sta avvicinando Vediamo la ricompensa che ci ha dato Vediamo un po' Ah solo i pipì E altri pipì Ok Detto ciò raga Grazie mille a tutti per la visione E alla prossima Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti Grazie a tutti.